Era il 1909 quando mio nonno Ambrosio aprì qui a Molena la prima bottega della città per la tostatura e la degustazione del caffè. La nostra è una storia di famiglia che inizia nel 1895 quando mio nonno poco più che ventenne, come tanti ragazzi italiani di quell'epoca, emigrò dall'altra parte del mondo alla ricerca di un futuro migliore. In Brasile, lavorando nelle piantagioni, si appassionò il caffè e ne divenne un grande esperto. Quando tornò a Modena aprì la prima torrefazione. Sono passati 110 anni da allora e la passione di mio nonno è stata costruita e tramandata per quattro generazioni. Ancora oggi ci rivolgiamo ai nostri produttori di sempre per avere solo le selezioni migliori, che mi scegliamo seguendo le ricette di famiglia. Siamo una delle poche torrefazioni che utilizza ancora il metodo tradizionale della tostatura separata perché sappiamo bene che ogni specifica qualità di caffè ha bisogno di tempi e temperature differenti. Li tostiamo separatamente per valorizzarne il gusto e l'aroma. Solo successivamente le diverse varietà vengono miscelate tra loro. La qualità è il risultato di un giusto equilibrio di tradizione e innovazione. E se oggi possiamo offrire un caffè buono come una volta è perché abbiamo saputo guardare avanti. In questi anni abbiamo investito in tecnologie avanzate come il confezionamento con bavola ad alta pressione che garantisce una perfetta conservazione dell'aroma. Ma soprattutto abbiamo curato ogni dettaglio nel rispetto del prodotto e delle persone per creare e condividere la cultura del caffè. Ecco, se dovessi scegliere una parola per descrivere il nostro mondo sarebbe proprio passione. Non solo quella della mia famiglia, ma di chi lavora con noi, dei nostri dipendenti, fornitori, di tutti i clienti affezionati che da anni ci scelgono tutti i giorni. Sono passati 110 anni da quella prima bottega ed è anche grazie a loro se oggi festeggiamo questo importante traguardo.